Nello stand dell'Itachi per vedere le ultime novità, Dario Pardi, Vice President Global Market di Itachi, la mission di questo gruppo? Grazie dell'opportunità, noi siamo qui oggi per ribadire il nostro commitment a livello europeo sul mercato verticale dei media, in particolar modo la nostra presenza ha dei significati per quello che presentiamo come innovazione ed è per questo che chiamerà in causa il responsabile del nostro settore verticale dei media, il dottor Giovanni Tracia. Giovanni, i prodotti, le novità, le soluzioni presentate qui all'IBC di Amsterdam? Siamo molto contenti quest'anno perché siamo riusciti a portare sul mercato una soluzione integrata sia per il nearline editing che per la componente di play out e distribution, quindi differentemente dall'anno scorso abbiamo fatto molti progressi in termini di soluzioni e oggi possiamo presentarci sul mercato con una soluzione veramente integrata che vuole diventare un competitor molto importante in quest'area. Avete comunque delle soluzioni molto specifiche realizzate anche con alcuni partner? Assolutamente sì, l'idea del gruppo verticale, dell'organizzazione del media, di Itachi è quella di lavorare con i nostri partner in modo di fornire delle soluzioni che vadano a indirizzare non tanto il prodotto ma il problema specifico del cliente del mondo media. I punti di forza di questa offerta? I punti di forza di questa offerta sono innanzitutto la scalabilità, tutti parlano di IP transformation, noi con queste soluzioni riusciamo a dare una scalabilità orizzontale, quello che viene chiamato scale out architecture, per cui senza dare nessun disservizio riusciamo a crescere nel tempo sia in performance sia in capacità. Dallo stand dell'Itachi, Giovanni Trecia, Dario Pardi per Milleganale.it Dio stand dell'Itachi, Giovanni Trecia, Dario Pardi per Milleganale.it